L'incredibile è quello che è successo nella notte tra sabato e domenica. Da un probabile diverbio fra automobilisti si sarebbe innescato un inseguimento tra due auto in autostrada sulla 2 del Mediterraneo, proseguita a Salerno con una mega scazzottata sul lungomare Trieste. Durante la folle corsa sono state danneggiate anche delle auto in sosta su via Pia Undicesimo e sul Trincerone. La lite è scoppiata tra un gruppo di giovani diretto a Salerno ed un automobilista che poi sarebbe risultato sotto l'effetto di alcol. I giovani coinvolti sono tutti di Nocea Inferiore e Mercato Sanseverino, indagano i carabinieri.